FURMINANDO 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 Ora di mio, oh capire, oh capire, oh capire, oh capire, oh capire. E così abbiamo terminato praticamente questa fase dolorosa di nostra orazione. Mañana gran victoria, a le 7 di la notte invitiamo a tutti per partecipare nella liturgia della gloria. In questo momento stiamo facendo una stampa, il Cristo della Sina Misericordia, perché la tumba non logrò sostener al Cristo, non logrò dominarlo, ha precipitato. Mañana tutta la cañada deve essere passato per il Cristo, per la mita, mañana traeremo un plastico con acqua e una felicità. A le 7 di 9, per la notte, a le 7 di la 12, comienza la liturgia. La benedizione di Dio Poderoso Padre, Hijo e Espíritu Santo, defienda sobre voi. Amén. A se la per la notte. All'inizio a tutti i miei salanti. All'inizio a tutti i miei salzatori. All'inizio a tutti i miei salzatori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.